Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi video unboxing. Sono più curioso di una scimmia, più del solito, perché non so assolutamente cosa contengano questi pacchi. E adesso vi vado a spiegare il perché. Sono entrato in contatto con i ragazzi di Pop in a Box e mi hanno offerto un abbonamento mensile da 3pop. Come funzionano gli abbonamenti di Pop in a Box? È tutto molto molto semplice, basta andare sul sito, registrarsi e perdere qualche oretta nel compilare tutti i pop presenti sul loro sito. Cosa si intende per compilare? Magari non mi sono spiegato benissimo. Ogni singolo pop presente sul sito è possibile marchiarlo con un simbolino. Una coppa se quel pop è già in vostro possesso, un pollice verso se quel pop non vi interessa, non vi piace e invece un pollice in su se quel pop è tra quelli che vorreste ricevere, se quello è un pop che rientra nella vostra lista desideri. Bene, io prima di abbonarmi, prima di attivare l'abbonamento, ed è quello che consiglio anche a voi nel caso voleste farlo, prima di attivare il vostro abbonamento dovete passarvi il tempo, andare su tutti i fanco disponibili sul sito e segnare quelli che vorreste o non vorreste ricevere. Fatto questo, ecco che non vi resterà che scegliere se abbonarvi a un pop al mese, due pop al mese, tre, quattro, cinque, sei, dodici, ci sono diverse opzioni di pacco mensile. A me è stato offerto quello da tre pop, quindi dopo aver compilato tutti i vari pop presenti sul sito, ecco che è partita immediatamente la prima spedizione e nel giro di circa 15-20 giorni mi sono arrivati due pacchi separati. E voi direte, ma come? Tre pop questi pacchi così grandi? Ebbene, già prevedo che mi sia andata molto bene la cosa perché nell'abbonamento di Pop in a Box voi potrete ricevere non solo pop regular ma anche box, pop da 10 pollici, pop di quelli giganti, potete ricevere movie moments, pacchi doppi, tripli, qualsiasi cosa. Quindi tutto quello che riguarda il mondo fanco è possibile riceverlo. Naturalmente ci vorrà un po' di fortuna e dipenderà da quanti pop metterete nella vostra lista dei desideri perché il sistema andrà a pescare in modo random all'interno dei pop che vi piacerebbe ricevere. Naturalmente anche soggetti a disponibilità, se quel pop non è presente, non è a magazzino, sicuramente non vi verrà spedito ma magari lo sarà successivamente. Bene, detto questo io ho compilato la mia lista naturalmente in larga parte potteriana ma il mio abbonamento comprende qualsiasi tipo di pop perché potete anche scegliere un abbonamento specifico, ad esempio solo pop di Harry Potter o solo pop Marvel, solo pop movie, quindi qualsiasi tipo di categoria. Ma naturalmente io per maggiori informazioni vi lascio sotto in info box il link al sito così da poterlo spulciare. Vi dico semplicemente che l'abbonamento mensile a 3 pop costa 32,95€. Quindi adesso andiamo ad unboxare queste scatole e scopriamo cosa mi sono beccato questo mese. Vi dico già che mi arriveranno altri due abbonamenti quindi anche a dicembre e gennaio farò il video unboxing di pop in a box. Ma detto questo bando alle ciance e cominciamo dal pacchetto più piccolo e vediamo cosa contiene. È abbastanza pesante. Andiamo di bisturi, tagliamo lo scotch. Io presumo che qui ci sia o un pop da 6 pollici e qui magari due, comunque ci sarà sicuramente qualcosa di oversize e sono già molto molto contento. Uh no, mi sbagliavo. Qui dentro ci sono ben due Funko Pop e abbiamo il primo che è questo qui di Toy Story. E abbiamo Bullseye e ragazzi sono completamente fuori di testa per questo pop. Lo volevo da tantissimo tempo ma non l'ho mai preso, non ho mai trovato il momento giusto per acquistarlo. C'era anche la versione floccata se non ricordo male in passato e l'ho messo nella mia lista dei desideri di pop in a box. E ragazzi eccolo qui. La scatola è super mint per chi fosse interessato e devo dire che il pop è molto molto bello. Io direi di tirarlo fuori dalla scatola così anche da potercelo godere più da vicino. È uno di quei pop che avrei comprato per spizio ma che essendomi arrivati così random, wow pesantissimo, è super apprezzato. Eccolo qui. Molto 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 bello. Davvero bellissimo. Mi piace un sacco questo piccolo pop. E poi ragazzi vogliamo parlare del dettaglio degli zoccoli con la scritta Handy? Partono subito i feels. Quindi contentissimo. Secondo pop ragazzi, questo è un pop che io avevo messo senza alcuna speranza nella lista dei desideri. E si tratta dell'esclusiva pop in a box di Pongo e Peggy. Quindi della carica del 101. Come saprete ragazzi io vi parlo sempre con estrema franchezza e vi dirò che questo pop sul sito di pop in a box costa 29,90€. Quindi tutto l'abbonamento costa 32,95€. Già solo con questo ce lo siamo ripagato. Quindi ottimo ottimo colpo per questo abbonamento. Il B-pack esclusiva pop in a box è anche bollinato. Quindi non avevo nessun bollino di pop in a box. Sono davvero super super contento e sono molto molto belli. E adesso quindi vediamo cosa c'è in questo pacco perché se due erano qui, qui ci sarà qualcosa di gigantesco. Probabilmente o un pop super size o magari un movie moments, qualcosa del genere. Io adesso sul momento non ricordo quello che ho messo, non ho messo nella lista dei desideri e questa è una cosa positiva perché ogni mese sarà una sorpresa. Vi raccomando però, questo è un consiglio spassionato che vi do, tenete aggiornata la vostra lista. Nel senso ogni volta che Pop in a box inserirà dei nuovi pop a catalogo dovrete avere cura di segnare quel pop con un pollice su, un pollice in giù o una coppa. Perché altrimenti qualora non metteste nulla, non segnaste nulla, in quel caso il pop potrebbe arrivare comunque. Perché il sistema lo riconosce come un pop tra virgolette indifferente. Quindi potrebbe anche mandarvelo. Stateci attenti, quindi segnate spesso e volentieri tutti i nuovi pop. Io lo sto facendo, ogni settimana mi collego per aggiornare la mia lista. E una cosa che devo dire però non richiede molto tempo è che trovo anche abbastanza divertente. Ma cosa c'è dentro questo pacco? Cosa c'è? No. No, vabbè, no. Ragazzi, non ci credo. La sculata più grande della mia vita. La box di Harry Potter. Ragazzi, io non so che dire. Anche questa costa praticamente quanto l'intero abbonamento. Io davvero non so che dire. A questo punto, ragazzi, il video prende una piega tutta diversa. Perché adesso ci toccherà scoprire se abbiamo trovato o meno il Chase di Sirius Black. Ragazzi, io davvero non so cosa dire. Io volevo acquistare questa box solo per avere la penna con la testolina da aggiungere alla mia collezione. E solamente la penna veniva venduta a 10€ su eBay. Quindi, io davvero sono senza parole, ragazzi. Vi straconsiglio l'abbonamento di Pop in a Box. E vi garantisco che non ho ricevuto alcun tipo di favoritismo. Ho compilato da solo la mia lista. Ho avviato da solo il mio abbonamento. Quindi, tutto assolutamente reale. Non sono stati inviati appositamente perché dovevo farci la recensione. Quindi, adesso, apriamo anche questa box e vediamo all'interno. Wow, sono davvero, ragazzi, super, super contento. Guardate, la box completa di tutto. Vedo già la penna che volevo da tantissimo tempo. E sono davvero super, super entusiasta. Eccola qua, la penna Pop con la piccola testolina del nottetempo. Io spero si possa staccare dalla penna perché vorrei proprio metterla nella mia collezione. Mi piace un sacco, la volevo da tantissimo. E adesso vediamo se il Pop, se è un Chase o meno. Vediamo qual è il fronte, questo è il retro. Lo faccio vedere prima a voi. Vediamo, sono super, super in ansia. Ditemi se è il Chase. Vedo già il bollino. Sì, ragazzi, Chase. Ma, cioè, sono senza parole, davvero. Sono assolutamente senza parole. Anche il Chase di Sirius Black. Direi che questo è il video più fortunato dell'intera esistenza del mio canale. Pazzesco. Sapete quanto vale il Chase di Sirius Black? Questo già da solo sta intorno ai 25-30€. Da solo. Senza box e senza niente. Devo dire che è 32,95€, ragazzi. Un affare. Assolutamente un affare. Ecco qui Sirius Black in versione Azkaban sepiato perché si tratta del Chase. E che ve lo dico a fare? È bellissimo. Pieno di dettagli. Anche la targhetta che tiene tra le mani fedelissima a quella del film. Io sono in estasi, ragazzi. Assolutamente in estasi. Poi abbiamo il Mystery Mini della professoressa Koeman. Questo qui non lo aprirò, però mi piace. È molto molto carino questo qui, questo Mystery Mini. E poi, ultima cosa all'interno della box, abbiamo il 5 Star di Harry. Questo è molto molto carino. Si tratta del 5 Star in esclusiva per questa box di Harry in versione Quidditch. E lo troviamo con la sua Firebolt e anche col boccino d'oro. Anche questo non lo tiro fuori dalla scatola, ma probabilmente lo metterò esposto così all'interno della confezione. E, ragazzi, che dirvi? Io direi che parla da solo questo unboxing. Vi lascio sotto il link per documentarvi. Per qualsiasi domanda, mi raccomando, contattatemi su Instagram Antonio.seria. Sono pronto a rispondere a qualsiasi vostra domanda sotto nei commenti. Fatemi sapere se voi siete già abbonati a Pop in a Box. Se conoscevate questo servizio, io lo trovo assolutamente magico. Quindi, approvatissimo questo servizio di Pop in a Box. Vi do appuntamento al mese prossimo per aprire assieme il prossimo pacco. Spero che siano di nuovo due pacchi, così vuol dire che avrò trovato qualcosa di bello ciccioso. Bene, ragazzi, io vi lascio il link sotto in info box. Mi raccomando, cliccate forzennatamente. E, naturalmente, servirà per sostenere il canale e mandare avanti tutta la baracca. Detto questo, io a questo punto vi chiedo, come al solito, di lasciare un mi piace, condividere il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale, non postate ancora iscritti, attivate la campanella e, ragazzi, vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità. Ciao! 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 Grazie a tutti